come è andata l'operazione agli occhi ti senti strana è normale dopo quello che ti hanno fatto come è andata la gita di schia il mare azzurro l'ho visto dalle fotografie come è stato tornare a vederlo in queste cose ci vuole molta pazienza come fate ogni volta ad ubriacarvi gli amici che ti dicono dicono che va tutto bene campari posso offrirti un campari stasera sei troppo bella quel vestito ti sta una bomba campari posso offrirti un campari raccontami come sei stata e quando sei tornata migliaia di chilometri fatti per errore per ritornare sola ogni volta che ritorni a roma sciocca che sei a dirmi sempre tutto le storie che ti fai e quelle che finiscono smettila dai non è questo il momento se mi guardi così a lungo io poi ci credo un bidi posso offrirti un bidi dico non siano fatti a mano ma io non ci credo un bidi posso offrirti un bidi vieni qua e abbracciami vieni qua e abbracciami lo senti il grido degli uccelli tornano a casa per non fare troppo tardi sayonara baby sayonara ti viene da ridere ma c'è poco da scherzare sayonara baby sayonara ti viene da ridere ma c'è poco da scherzare ragazzi mille grazie mille ceriano laghetto